Allora, è Riercomit, comunque ho fatto il mio letto, avete visto? Non faccio altro perché tanto non so se mi conviene fare altro Comunque, scusate la voce ma è sempre peggio, non so perché ma è sempre peggio, stamattina era ancora più brutta quanto la voce Però non voglio fare brutte voci perché poi pensate che sono strada io Sì, dietro di me vedete la finestra chiusa perché in camera mi è più che scolta il duccio Già, allora ragazzi mie, se mi vedete distante dal dispositivo o dal telefonino è perché c'è il cavalletto C'è il cavalletto, ciao Sì, come no Ho il bastone del selfie e quindi è per quello che mi vedete lontana Però se no vi sto tenendo con il braccio normale Ma alla fine vi sto tenendo con il bastone del selfie Ora mi vedete in cucina perché devo finire di pulire le tazze della colazione che sono di là Poi alcune di qui, cioè la caffettiera, vabbè tutto il resto, vedete? Sì E poi anche di qui devo vedere una bella sistemata, vedete? Sì Non so cosa si possa vedere ma è così E nulla, no? Ci vediamo dopo perché non ho intenzione di farvi vedere tutte queste robe perché tanto penso che le abbiate già viste Casomai metterò a parlare, straparlare comunque E straparlare si fa per dire perché metterò a fare altre cose Vabbè, sembra che ci vogliate avere un esercizio a posta voce ma vabbè Casomai metterò che è meglio E nulla Allora Adesso io li accendo un po' di televisione e ci vediamo dopo Sì, ci vediamo dopo Ciao ragazzi, sono qui Allora, vi è ritornato e vi rientrate in un altro nuovo video di oggi Perché io stamattina ho messo Allora, l'avete visto fare il letto stamattina? Ehm, dove? Come è certo? Adesso ho cominciato a fare un breve video di cercare lì Nell'attesa che riesco a registrare qualcosa perché sono stata interrotta E' così Ehm, sono stupenda di tutto quanto Non mi dava lo stesso di fare questo video Scusate la voce ma E' quella che è perché non è già la tal situazione Ehm, quindi praticamente sto facendo questo video adesso Ehm, niente Quindi sto guardando un po' sul sole Ehm 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 La voce non è in tanta Per anche Ma vi dovete accontentare ragazzi Perché Sinceramente Non so quanto potrò andare avanti così in questa voce Sperando che domani sia migliore Almeno stanotte mi faccio una bella sudata Praticamente io sto cercando di Mh Fare questo benedetto video che dice assieme a voi Scusate la voce Però purtroppo E' questa che è Quella che Perché Da quando io sono Ehm Sperato la voce Pertanto Da me solo fastidio E niente Alla fine Sono dovuta per forza fare questo video Per forza Più che l'altra No, non è un video forzato Sono già andata Ehm Frotto Ma perché non è così Comunque Ehm Mi piace fare media quando sono così Un concetto in questo modo Ehm Io voglio dirvi la situazione Ma giornate Non solo su Instagram Perché Su Instagram Vabbè Lo commento Ma Almeno qua Su Youtube Non voglio aggiornare E niente Per Allora Vi dicevo Perdonate Perdonate Come sono io Insomma Perdonate Sono tutta Come dire Ehm Struccata Ehm Anche Perché no Ehm Sono elegantissima Ragazzi Stando con l'influenza Stando con me Ehm Sì Raffreddore Tossa Che non posso Adesso Adesso Lo sto toccendo Perché Forse Se non sono le mie Parole famose Mi si La voce Sta un po' Di attenuarsi Di attenuarsi Meno Comunque Ehm Vi dicevo Praticamente Questa voce Non so che vuole andare via Mi sono dovuta Traspirare in bagno Perché Ahimè Come potete Ben capire Con questo rumore Che una donna Pattorisce a me Non mi fa di sentirlo Non me ne vogliate Io non ho nulla Contro Contro Mh Le donne Che pattoriscono Non mi linciate Per questo Non c'entra nulla E' solo che Non voglio che si sentano Rumori troppo Impreganti Che possono un po' Ehm Come dire Ehm Dare un po' fastidio A chi sente questo video Vabbè Toglierò quella parte Dove sto Dove sto Dove si sente questa cosa qui E se no Ve la lascia Che devo fare Ragazze Questo Ehm Il mio canale YouTube Ma io volevo anche Cercare di Renderlo più Allegro E non ci sono riuscita Stasera Mi dispiace Proverò a tagliarlo Comunque Se vedrete alcune parti tagliate Ehm Sarà perché Purtroppo Vi erano rumori Fastidiosi Inerente A una donna Che Vabbè Quindi Non che mi dà fastidio Ma Non è Inerente A quello che volevo dire Che volevo Farvi sentire io Tra la mia voce E una persona Che si sente Dalla televisione Ah Ehm Perdonatemi Scusatemi ancora Se quando accenderete L'ultima parte del video Quando aprirete L'ultima parte del video Vlog di oggi Mi sentirete Mi sentirete con questa voce Perché Di sera La mia voce Fa questo scherzetto Sempre da portare Dall'esorcista No A parte di scherzi Ragazzi È così Più Io cerco di fare un tono Più Equilibrato Più Più Calmo Perché io suono calmo Però Più La voce diventa Un po' La voce da strega Che ci posso fare Quando sono Quando fa così Fa così Non ci si può fare niente E quindi Non so ragazze Qua sto guardando i minuti Perché non voglio che Ehm Come dire Non voglio fare il video Troppo lungo Quindi Faccio di tutto Perché Possa venire più corto E E anche perché Non voglio che sia troppo Noioso Questo video Comunque Ho fatto tutte le polizie possibili Immaginabili Sì Sono seduta sul water Ma Non sto facendo una lì Sono solo seduta Non sto facendo niente Non preoccupate Potevamo sedere sul bidet Ma E sarebbe stata la stasera Di una cosa Sto solo seduta Con un po' a vincinare E niente Mi prenderete così Per una stupida Per una scema Per una disgustosa Ma Eh ragazze Se mi metto in camera In camera C'è disordine E me non mi va E' vero Ho appena messo in ordine Ma poi ho messo in disordine Perché Volevo Dormirò un po' oggi Come dico Dato che ho C'ho L'affreddore E la tosse Ogni tanto la voce mia Si abbassa Eh Che ci volete fare Così E niente Voi direte Ma perché non ti stai riposando Che fare video E non so Ma io non ci so stare Senza stare ferma E senza stare zitta Perché io non posso stare zitta Mi piace parlare E questo è il piccolo angolo Di youtube Dove parlo Che quando sto male Come quando andavo a scuola Se non potevo andare a scuola Alle volte dovevo andarci per forza Perché Eh Non era soltanto obbligo Ma anche era necessario Per farmi una Una Come dire Una cultura Più che altro Un bagaglio Per andare al lavoro Non so del lavoro Ahimè Non posso lavorare Perché Per il semplice motivo Che sto bene così Altrimenti Che se non avrei potuto Non avrei lavorato E non posso lavorare E vabbè Comunque Niente ragazzi Questo era tutto Eh Io vi lascio E ci vediamo In prossimo video Anzi Vi dico già Se vi va Io vi dico Nelle schede di informazione Il video Delle domande Che avete già risposto Io che vi ho risposto Qualcuno mi ha detto Ma Nell'altra domanda Nell'altro video Ma hai amici Con cui uscire O uscirci E basta O chiacchierare eccetera Se non ho capito quella domanda Perdonami Eh Sì Ho amici Ma Pochi O più o meno Quelli di Ho mia madrina Perché ho pochi amici Devo della vita Pochi E nullo Perché Uno perché E due perché Preferisco Bastarmi io E basta Quindi Ma che senso ha Ho zero amici Tra le più E mia madrina E basta Il resto Va bene Comunque Se vi è piaciuto il video Vi ho già risposto a questa domanda In questo video Già metterò il titolo di questo video Come Come Riuscirò a mettere io Non come Like Comment E fatemi sapere Se questo video Vi ha annoiato O meno Un bacio Alla prossima Ciao Ciao Ciao